Ciao palì, ciao palì 5, 4, 3, 2, 1 Erotismo Attenti Andate in posizione nei vostri gruppi, fate i soc Niente, non è arrivato Fate sui marchi ragazzi, non c'è motivo di andare in giro, se non per i soc Via da avanti Via da avanti in posizione Gruppo quadrato Io, guarda, come sono morto? Forse ci avete stack, non lo so Onestamente non lo so Dopo Via da avanti Ma No, 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 no Ok, chiaro Ah Che succede? Ok Succede Su Bravo In posizione Cerchi Ok Bravissimi Divideteli bene Succare Su Ok Via da avanti Tornate 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 Ok 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 Spia da avanti C Ci Tornate Quella forza Lì Poi Uh Gustosa Attenti Tornate Un ruggito Basta Sia da davanti e nuke boss Con questo che dobbiamo stare fermi Ci veniva la grande Siamo fortissimi Sia da davanti e nuke boss